Capita a me? Reduce da un grande successo c'è Peppe Gliobice Peppino Peppe, Peppe, Peppe 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 Signor Jenny vorrei chiedere solo una cosa la prossima ha da essere esso sali tu sali tu si ma capace allora io buonasera ma come il piano bar guarda il tuo nome che bello però Gifu n'era contento Gifu n'era contento quando hai fatto la richiesta Gifu n'era felice non ti preoccupare siamo nelle mani gius allora io ti dico subito è andata alla grande è andata lo spettacolo era vero si è un apolo con lo spettacolo no nel senso è andato proprio veramente io sono entusiasta io e Simone anzi ringraziamo veramente tutta la città perché sold out consecutivi quindi da superiore veramente sono felice grazie infinite a tutti però allora io però sai l'onestà e la coerenza che contraddistingue tutti quanti noi ce lo possiamo dire allora Benitez Nebuo Amir Bigonna ha accanto solo Munez e dell'Aurendio sono pure chiuso va bene perché l'abbiamo sempre detto l'abbiamo sempre detto tutte le settimane quindi noi siamo coerenti ma Napoli insomma siamo riusciti a farire la Zeman non rieva quando lo stai in ammoci cioè ma rieva ma c'è 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 ma è veramente che poi io non lo sapevo ma a me ma mi stupisce molto Zeman che addirittura cambia metodi di allenamento seconda della regione dove va non so che su fatta la Sardegna ne fa allenare e fa pasculare cioè è meraviglio no però dai è una squadra ma come ma è veramente a me è un sacco di deluso l'unico che ha detto buono è stato Raffaele che ha finalmente il sereo proprio con te dice ah meno ma perché il sereo proprio soddisfatto dice meno ma tre gol e lui si è portato pallone a casa cioè ha fatto la tripletta bravo Raffaele bravo 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 ha messo il camera dice la Benitez ci ha detto ieri guarda meglio insegna che Sanfello lo faccio qua che Sanfello ma così non è possibile ma infortuna chiediamolo pure al dottor De Nicola che è strepitoso ma come mi ha addirittura oggi ho saputo una cosa che ha detto ma Zunica ma si è infortunato pure un micio dottor Cucciolo si è infortunato ma io ho saputo è caruta la coppa panchina che succede ma come si fa un gioco a tre anni ma non è saranno piaghe da decubito non si è infortuna non si è infortuna non si è infortuna non si è infortuna ma non si è infortuna però insomma la cosa bella è che poi l'unica delusione il flop di questo io non so chi è infortuna come flop i guaiini che la signora e così mi ha toccato allora cullibali cullibali veramente io ho capito benito adesso non c'è bella ma no se io ho che la dota così ti spezzi e cosce ti faccio fare no cullibali cullibastun allora l'altro però dell'Aurentis ho saputo che è arrivato nello spogliatoio a fine partita ha detto no mister mi dispiace lo stimo molto ma cullibali non si tocca che lo primo che c'è a mettere in mano è un gol c'è a essere ma la forza a Napoli sempre grazie grazie che deve fare che deve fare peppe salvatore che deve fare peppe che deve fare salvatore il solito la prossima grazie non lo so no tendente david nel senso che senso signoranini un bacio andiamo a presentare prima prima